Nel firmamento di Dio da vent'anni brilla una stella e questa stella ha un nome e una storia, il Sor Laura. Le stelle sono un punto di orientamento per i naviganti e noi siamo dei naviganti molto inquieti, molto paurosi, che cercano una direzione e allora si rivolgono a lei, una stella lucente che brilla del sole di Dio ed è bello pensarla tra i santi della porta accanto, come chiama Papa Francesco. Sono delle persone del tutto ordinarie, molto semplici, umili, che sprizzano santità. Grazie. 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 Grazie.